In Italia sono stati spesi in gioco d'azzardo nel 2016 dato più recente disponibile 96 miliardi di euro con un incremento dell'8% sul 2015 e l'Italia vanta anche il primato europeo per macchinette pro capite, una ogni 143 abitanti contro i 245 della Spagna e i lontanissimi 261 della Germania. Che l'Italia ha collezioni primati, spesso in negativo è cosa nota ormai e la nostra provincia non si discosta affatto dal dato nazionale, ma vediamo i numeri per il 2016 per quanto riguarda però solo le slot machine. In totale nella nostra provincia i soldi giocati sono stati 248 milioni 134 mila euro erotti e gli apparecchi presenti sul territorio sono 2329. A Fano sono stati buttati in gioco sulle macchinette 53 milioni di euro e 530 mila e si sono ben 464 apparecchi per una spesa pro capite di 863 euro, superando pesero non in meglio però in questo caso, dove la spesa pro capite è di 845 euro per un totale di 80 milioni 180 mila euro di soldi spesi su 572 slot machine. Nella città ducale spesi invece 6 milioni e 900 mila euro con una spesa pro capite di 461 euro nei 77 apparecchi presenti. Questi sono stati i dati raccolti dalla Cislifano ma che rappresentano tristemente solo una parte del fiume di denaro che gira attorno al gioco, non essendo contemplati né i gratta e vinci e né le sale giochi, per cui il dato, se fosse ancora possibile, è ancora più allarmante. Chiediamo ai sindaci che su questo hanno la possibilità di intervenire con regolamenti comunali di adottare tutto un regolamento comunale di contrasto all'utilizzo delle slot machine, aumentando anche la tassazione locale che è di loro competenza, occupazione suolo pubblico, latari, tutte le varie tasse comunali e di investire risorse sull'informazione e la prevenzione. Fano, 50 milioni di euro giocate, significa che ogni abitante di Fano ha giocato soldi nelle slot machine. Le risorse spese sono tante e soprattutto generano povertà e indebitamento delle persone, delle famiglie e dei nuclei familiari più bisognosi.